Cari amici, non so se avete notato, ma l'intellettuale di sinistra, in questo periodo, quando vuole farvi capire che è molto più intelligente di voi, ma che è molto più intelligente anche dei suoi compagni che straparlano di fascismo, tira fuori la storia della complessità. In parole povere significa che voi, poveracci, non siete assolutamente in grado di capire la profondità dei suoi pensieri. Provate a chiedere, ma starà mica tornando fuori il vecchio conflitto di classe? No, è più complesso. Ma non è che la classe media occidentale corre verso l'estinzione? È più complesso. L'immigrazione incontrollata non servirà mica per abbattere il costo del lavoro? No, è più complesso. I clandestini scateneranno una guerra tra i poveri? No, è più complesso. Gli islamici si interrano con difficoltà? È più complesso. Le metropoli ormai vivono in un mondo diverso da quello delle periferie e della provincia? È più complesso. La globalizzazione ha massacrato i lavoratori occidentali? È più complesso. Insomma, è sempre più complesso. L'euro strozza dell'economia dei paesi nell'Europa meridionale? È più complesso. Il welfare è stato smontato pezzo per pezzo? È più complesso. La cosa veramente divertente è che tanta complessità di pensiero diventa magicamente inutile non appena si tratta di giudicare il pueblo ignorante che non vuole o meglio non può capire perché non è intelligente a sufficienza. Il popolo quindi è fascista, xenofobo, razzista. E tanti saluti alla complessità del pensiero. Quando si tratta di giudicare il nemico politico è tutto semplice per l'intellettuale di sinistra.